Ciao ragazzi, ben ritornati in questo video. Oggi parliamo di Inter-Juve. Quando si parla di Inter-Juve, io lo so che sono l'editina che fanno così, inizia ad esserci un po' qualcosa dentro di noi, io l'ho chiamato fuocherello, fuochino, chiamatelo come volete, ma effettivamente questa è una partita che accende sempre qualcosa di particolare in noi tifosi della Juventus. E dall'altra parte abbiamo un allenatore che è un ex Inter e dato che i giornalisti sono andati su questa tematica, parto con il dire che non sarà mai una partita come le altre per Tiago Motta, per forza di cose, perché va a trovare il suo passato, è l'ex di turno. E non so se è per questo motivo o se c'è anche qualcos'altro, ma Tiago Motta oggi, per la prima volta in assoluto in conferenza stampa, l'ho visto meno rilassato del solito. Non so se anche a voi è sembrato di vedere questo, è stata una conferenza stampa molto strana, molto particolare, più breve anche, del solito, con Tiago Motta che ha tagliato cortissimo e mi è sembrato veramente una persona un pochettino stressata in questo momento. Non so se deriva dal fatto che nell'ultima settimana abbiamo avuto la prima sconfitta stagionale o appunto dal fatto che domani andremo ad affrontare la sua ex squadra, che è anche una delle squadre più forti del campionato, se non la favorita, perché io a inizio anno l'ho messa come favorita per vincere lo scudetto perché è campione d'Italia in carica. Su questo concetto è passato anche Tiago Motta, il che mi ha sorpreso, devo dirvi la verità, mi ha stupito per un motivo. Tiago Motta si è sempre tenuto molto distante da questo giochino del parliamo di chi arriva a fine anno con i presupposti per vincere, parliamo invece del presente, parliamo di quello che è il lavoro quotidiano. Oggi invece è andato a fare un po' di pretattica, condivisibile dal punto di vista ovviamente dell'allenatore perché gli allenatori faranno sempre pretattica, io non so se Inzaghi ha già parlato o parlerà, ma sicuramente Inzaghi dirà no, la Juve è una squadra che può vincere per forza, è normale che sia così, ci mancherebbe altro. Però secondo me oggi l'Inter e anche Inzaghi andranno a dire che comunque loro hanno voglia di vincere lo scudetto, invece la Juventus è andata un po' con i piedi di più, ma ne parleremo nel dettaglio in questo video. Quanta voglia c'è di tornare in campo dopo martedì? C'è sempre voglia di andare in campo allo stesso modo, abbiamo sempre affrontato i nostri avversari al massimo per fare la nostra partita, domani sarà la stessa storia, noi concentrati e determinati per quello che sappiamo fare. Domani si scontrano le squadre con l'età media più alta e la seconda più bassa dopo il Parma, la Juve come farà la differenza? La Juve deve giocare la sua partita come ha sempre fatto, ogni partita è diversa, ma noi dobbiamo affrontarli al massimo, sono l'ultima squadra che ha vinto lo campionato insieme al Napoli e per fatti e non opinione sono le favorite del campionato. Domani tocca all'Inter, noi dobbiamo essere concentrati e determinati per mettere in difficoltà. Lo scorso anno 23 punti di distacco tra i Juventus e Inter, il gap si è ristretto o i punti non erano reali? No, non lo penso io, sono i fatti che lo dicono. È oggettivo che le squadre favorite sono loro due, per quanto fatto negli ultimi due anni e per quello che stanno attraversando. Domani tocca giocare contro una squadra forte, noi dobbiamo affrontarli con concentrazione e voglia di giocare a calcio. E già da qui capisco che le intenzioni di Tiago Motta erano le seguenti, andare in conferenza stampa e dire questa cosa, perché ovviamente prima parlavamo di pretattica e non è che gli hanno fatto la domanda immediatamente dicendogli L'Inter è la favorita per il campionato? Hanno detto l'età media della Juve è questa, l'età media dell'Inter è questa, la Juve come farà la differenza? Risposta, l'Inter e il Napoli sono le favorite. Quindi viene da sé pensare che la volontà di Tiago Motta fosse quella di arrivare in conferenza stampa per cercare di scaricare la pressione sulla Juventus e gettarla sull'Inter. Per me è la stessa cosa che farà poi Inzaghi, anche se credo che la farà in modo leggermente diverso e dando anche più consapevolezza alla sua squadra, come potrebbe essere diversamente dato che sono i campioni in carica. È un Tiago Motta che si è molto adeguato alla svelta, a quelle che sono le conferenze stampa degli allenatori delle Big che per il primo anno vanno a sedere sulla panchina della Big. Quindi abbiamo omologato il discorso al 100%. Sono convinto anche che Antonio Conte andrà a rispondere a questa cosa qua e lo farà a modo suo in maniera meno delicata rispetto a come invece l'ha detto Tiago Motta. Devo dirvi la verità, non mi è piaciuto il fatto che nelle prime due domande dei giornalisti, perché la prima è quella di Juventus TV, quindi canale tematico, quindi domanda precostruita, predefinita, ma che sulle prime due domande dei giornalisti invece si sia andati a parlare di favorite per lo scudetto. Perché questo è un argomento che farà sempre discutere, sarà sempre l'argomento di punta, di dibattito in generale, ma per quanto mi riguarda è anche l'argomento meno interessante di tutti. A me interessa domani godermi e vedere un bello spettacolo in Inter-Juventus, sperando che poi alla fine i tre punti vengano a casa con noi. Vincere domani non significerebbe assolutamente aver vinto lo scudetto, perdere domani non significerebbe assolutamente aver perso lo scudetto, pareggiare domani non significerebbe assolutamente niente. È ovvio che inizia a dare un indirizzo al campionato, è ovvio che Inter-Juventus in questo momento sono le squadre che devono cercare di tenere il passo del Napoli. Quindi sembra quasi più una guerra in questo momento tra Inter e Juve, perché ovviamente la cronaca, l'attualità ci porta a parlare della sfida tra Inter e Juve, ma non dimentichiamoci mai che è il Napoli in questo momento, che è la squadra che sta scappando via e non ha impegni settimanali. Poi sono convinto che davvero il risultato di domani possa essere più che per il campionato stesso uno stimolo mentale, perché la Juve ha bisogno di una buona partita, ha bisogno di un buon risultato per quello che è il momento dal punto di vista mentale della Juve. E infatti si è parlato di testa dei calciatori e Tiago Motta ha toccato questi temi, però ripeto non mi è piaciuto arrivare a discutere della squadra favorita per lo Scudetto, perché mi sembra un esercizio inutile in questo momento qua. E infatti chiedono a Tiago Motta, questo è il primo passaggio delicato stagionale dato che avete fatto la prima sconfitta. E Tiago Motta dice, non c'è da lavorare sulla testa i ragazzi, stanno bene. E infatti ha detto una cosa giusta, in una squadra grande e storica le esigenze sono altissime, ma è la prima sconfitta. Quando si vince o si perde, si passa alla prossima, non abbiamo tempo per festeggiare quando si vince. Lo Stoccard è il passato, andiamo ad affrontare la prossima partita contro l'Inter, è un grande ambiente di calcio da vivere e domani faremo la nostra prestazione. Questo è il modo più furbo e intelligente da parte di Tiago Motta di archiviare la partita. E cioè dire, quando vinciamo non abbiamo tempo per festeggiare. Tradotto, quando perdiamo non abbiamo tempo per deprimerci. A maggior ragione se il calendario ti mette di fronte a questa sfida qui. È la sfida che volevo dopo questa partita? Io no, sono sincero, io no. Luca Toselli. Però ho letto tanti tifosi che hanno detto, invece per me è la sfida migliore in assoluto perché se vinci questa partita vai a rilanciarti dal punto di vista umorale ed è una lettura assolutamente corretta. Io a questa sfida sarei arrivato più volentieri con un buon risultato in Champions. Ecco l'Avventus che poteva essere carica e consapevole delle sue potenzialità. Non che la sconfitta con lo Stoccarda te le vada a togliere, però ripeto, ho visto già oggi un pochettino Tiago Motta preoccupato, meno sereno rispetto al solito. E vorrei capire se è paura tra mille virgolette, però comunque consapevolezza di andare a affrontare una squadra forte come l'Inter. o se ci siamo portati dietro un pochettino di negatività dal punto di vista umorale dopo la sconfitta in Champions. Lo scopriremo domani. Già a partire, secondo me, dalla formazione. Sono molto curioso di sapere la formazione. Oggi è stato veramente ermetico Tiago Motta. Vlaovic ha bisogno di un Ildis dietro di lui, al suo fianco? Perché no? Può essere. Abbiamo segnato in tanti modi. Vedremo domani cosa succederà in campo. La sconfitta preoccupa. Ha tolto certezze. E qua invece è stato molto bravo Tiago Motta a rispondere dicendo no, rimane nel passato. Noi siamo convinti della nostra idea di gioco. Andiamo avanti. La prossima partita è l'Inter domani. Noi andiamo avanti, come sempre, al massimo. Quindi è stato veramente secco, deciso, è andato dritto per dritto e ha detto quello che doveva dire. Lei è stato un importante ex-Inter, ma qui non è percepito come un ex-interista. Perché? Domanda un po' strana. Professionista, semplicemente. Però ho giocato nell'Inter, nel Barcellona, nel Genoa, nel PSG, nell'Atletico Madrid. Ho giocato in squadra dove non solo a livello sportivo, ma anche umano ho provato a fare le cose giuste senza aver nulla da nascondere. Mi sono comportato sempre nel modo giusto con tutte le persone. Forse per questo, come ex, sono sempre stato trattato bene. Ringrazio le persone che mi hanno aiutato nella vita e nella mia carriera. Forse è per come mi sono comportato. Vabbè, domanda un po' particolare. Inter-Juve è sempre una partita diversa. Lei come la sta vivendo? La vivo molto bene. Come la prossima partita che dobbiamo giocare e andiamo al 200%. Non c'è una partita dove non andiamo al massimo. Poi magari si vince, si pareggia o si perde, ma si fa nel modo migliore. Lavorando quotidianamente con impegno per arrivare a queste partite al massimo. Di Marco a sinistra è uno dei migliori. Come si metterà lei a destra per contrastare l'Inter? La fascia di domani la vedremo domani. Ma non solo di Marco. Attacca tanto anche bastone da quel lato. Così come Mkhitaryan. È una fascia importante e con giocatori forti. Non saremo uno contro uno per tutta la partita. Collettivamente, sia in attacco sia in difesa, è quello di cui avremo bisogno per risultato positivo. Quindi Tiago Motta ti dice no, non è andando uno contro uno con i suoi giocatori e quindi, esempio, mettendo UEA su Di Marco o Cambiaso su Di Marco. Non è questo che fa la differenza. È lavorare in modo collettivo. Perché poi Tiago Motta è preoccupato in particolar modo su una cosa per quanto riguarda l'Inter che è ovviamente oggettivamente la cosa in cui è più forte l'Inter e l'analizziamo dopo. Domani può giocare Perini in porta? E Tiago Motta dice sì e sembra rispondere sì domani gioca Perini e poi si corregge ha un secondo di confusione e dice domani tutti possono giocare stanno bene, lo vedremo domani. però questa risposta mi è sembrata quasi molto onesta su Perin per poi andare a correggersi per non dare informazioni nel dettaglio. Però se potessi scommettere un euro oggi lo scommetterei su Perin titolare e a tal proposito ieri ho parlato proprio del dualismo che è solo che positivo per la Juve in questo momento per la porta con due grandi giocatori come Perini e De Gregorio se non avete ancora visto il video ve lo lascio qui sopra nelle schede. Ci fa un punto sui infortunati non recupereremo nessuno siamo gli stessi di Champions quindi niente con Mainers niente Douglas Lewis niente Nico Gonzalez sapevamo alcune cose però almeno con Mainers io ho sperato di poterlo recuperare anche perché McKennie non mi è sembrato lucidissimo in Champions ma va bene così. Lei prima parlava di portare la partita dalla vostra parte e non dalla parte dell'Inter ma dove conviene all'Inter portare la partita? e Tiago Motta dice giocano molto bene a calcio mettono in difficoltà le squadre in contropiede se ripartono sono pericolosi perché si ricompattano e fanno una buona fase difensiva ma soprattutto di recupero dobbiamo essere molto attenti la transizione oggettivamente è quello che caratterizza l'Inter di Simone Inzaghi e dove nascono tutti i problemi principali. La partita di domani avrà un peso diverso? Tiago Motta dice no è solo la prossima partita del calendario è affrontata come sempre è giusto che sia così dopo ne mancheranno ancora tantissime da giocare che quello che vi dicevo prima non è che questa partita è decisiva non può esserlo per definizione al 27 di ottobre non può essere così non è che se la Juve non fa i tre punti domani non ha più possibilità di vincere lo scudetto no è una bugia ci mancherebbe altro poi che abbia un peso diverso penso di sì tanto per la storia di Juve-Inter per la storia di questo singolo campionato ma lo ribadisco per la testa dei protagonisti perché l'Inter non è partita benissimo in questo campionato poteva partire meglio la Juventus viene da un periodo di pareggite acute dove ha difficoltà in fase offensiva e dalla prima sconfitta stagionale quindi secondo me il peso morale che avrà questa partita sarà importantissima per la squadra che riuscirà a vincere se ci sarà una squadra che riuscirà a vincere oppure un pareggio sarebbe semplicemente un rinvio a giudizio spesso e volentieri mi chiedete i pronostici e io odio fare i pronostici non mi piace per niente però oggi vi dico che il pareggio mi sembra davvero il risultato più probabile in assoluto non so se sarà davvero così ma per quanto mi riguarda il pareggio è davvero il risultato più scontato poi vedremo che cosa succederà perché la Juve ha delle assenze l'Inter ha delle assenze quindi chissà che queste cose non possano spostare da una parte o dall'altra quello che poi sarà il risultato finale dove si giocherà la partita per equilibrio perché l'Inter è davanti a cinque nomi invece la Juve ha solo Vlaovic e qui Tiago Motta non ci sta e sembra un po' nervoso da come va a rispondere a questa domanda perché risponde se la pensi così rispetto alla tua opinione ma domani si affrontano due grandi squadre con grandi giocatori in campo collettivamente noi dobbiamo fare un'ottima fase difensiva offensiva di transizione che sono il momento importante della partita loro in transizione positiva mettono in difficoltà tantissime squadre e la risposta dal punto di vista dell'analisi sportiva è perfetta una risposta veramente difficile da dire no non è così no sì l'Inter è assolutamente forte in quello lì il tono con cui ha detto Tiago Motta mi è sembrato davvero un tono di una persona che oggi sta iniziando ad avvertire tanta pressione tanta tensione e mi auguro che sia soltanto perché effettivamente è il suo primo Inter-Juve da allenatore della Juventus da allenatore in generale forse è la prima grande partita di cartello di un campionato anche se c'è già stata Juve-Napoli forse la sentiva meno forse la sente di più con l'Inter per via anche del suo passato Tiago Motta è un essere umano ed è giusto che abbia delle reazioni e delle emozioni che abbia degli stimoli di fronte a quelle che sono partite del genere e meno male perché se no saremo solo delle fredde macchine fatemi sapere la vostra sotto nei commenti sono curioso di sapere se anche voi avete percepito un Tiago Motta diverso rispetto alle altre uscite in cui ha chiacchierato perché questa conferenza stampa è stata ristretta e molto molto particolare ciao a tutti e forza Juve grazie a tutti